Prima finale azzurra della stagione internazionale 2012 qui al Memorial D'Aloia, prima vittoria per le sorelle Lobue, complimenti Giorgia, complimenti Serena. Giorgia, un tuo commento? Beh, è stata una gara difficile, soprattutto perché siamo partite dietro, perché l'equipaggio di Beatrice e Sofia erano avanti, i primi 500 metri. Poi il vento non aiuta, anche perché era un po' laterale, quindi in due senza viene ancora più difficile, però pian piano ci sono stati un passo costante e ce l'abbiamo fatta. Siamo sulla buona strada, Serena? Eh sì, spera di sì. Vediamo, non metto le mani avanti, speriamo. Non mettiamo le mani avanti, comunque c'erano anche avversarie molto agguerrite oggi. Sì, sì, sicuramente, c'erano le nostre avversarie di sempre, Arcangiorini e Ferrara, poi abbiamo ritrovato come avversarie Celoni e Masserano, che era un due senza già collaudato, poi il nuovo due senza, Ondoli e Broggini, però comunque è stata una gara molto agguerrita, però ce l'abbiamo fatta di nuovo anche questa volta. E domani si ripete? Speriamo di fare meglio bene anche domani. Grazie alle sorelle Giorgia e Serena Lobue, vincitrici nella specialità del due senza junior.